Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi volevo parlare della mia nuova dieta. Come ben sapete, se mi seguite sugli altri social media, non ho mai mangiato verdure per tutta la mia vita. Ho sempre avuto il disgusto innato per qualsiasi tipo di verdura. Non ho idea del perché, non penso sia un trauma, perché in realtà non è successo assolutamente niente. Ho parlato anche con esperti, ho parlato anche con i miei genitori, qualsiasi cosa. Non è successo assolutamente niente di traumatico, forse un mini trauma o qualsiasi cosa, ma in realtà non è questione né di gusto e non è questione né di tatto né di consistenza della verdura. Semplicemente non riesco a vedere la verdura come cibo. Qualsiasi cosa che io vedo, neanche solo di verde, perché non è solo le cose verdi, ma è qualsiasi cosa che vedo come ambito verdura, dai pomodori alle zucchine, né qualsiasi cosa, l'insalata e l'uva per me sono le cose peggiori da vedere, io non riesco neanche a considerarle come cibo. Cioè, se tu me le metti a tavola, io non riesco neanche a mangiare vicino a quelle cose. C'è stato un periodo in cui anche solo sentire l'odore dei condimenti della verdura mi faceva venire la nausea e anche quasi vomitare. Io non riesco proprio a vederla né a toccarla. Immaginate com'è vivere la propria vita limitati dal punto di vista del cibo da questa cosa completamente. Andare in un ristorante, anche andare semplicemente da McDonald's e 9 cose su 10 sul menù non si possono mangiare perché contengono verdura. Contengono lattuga, contengono qualsiasi cosa. Magari voi non ci fate caso perché mangiate qualsiasi cosa, però fidatevi che la verdura è dappertutto. Anche semplicemente quando io vado al ristorante e ordino una bistecca, mi arriva la bistecca con la foglia di insalata, io non riesco neanche a toccare il piatto. Quindi è sempre stato imbarazzante, è sempre stato un problema, è sempre stata una limitazione. Quando ero piccolo era ancora peggio. Poi è pian piano migliorata. Non mangiavo neanche il pesce. Questa cosa è pian piano migliorata. Fino a che adesso il pesce lo mangio. Ho iniziato anche a introdurre in qualche modo le verdure tramite salse, tramite zuppe. Tant'è che gli ultimi sei mesi ho solo mangiato zuppe a pranzo per tutto il tempo. Se mi seguite sui social lo vedete che io a pranzo pubblico tutti i giorni che mangio una vellutata di verdure. Quindi in qualche modo tra integratori vari e altre cose, salse, piccole cose, diciamo che le verdure pian piano le ho integrate in qualche modo. Però non mi sarei mai sognato di mangiare verdure. Dunque che cosa è successo? Ho deciso a 24 anni di iniziare un percorso interno, un percorso spirituale, un percorso di yoga. Se voi mi conoscete da inizio di quest'anno vedrete che ho iniziato questo percorso di yoga. Non yoga dal punto di vista fitness, ma yoga dal punto di vista di crescita interna. Il mondo spirituale è qualcosa che io non ho mai considerato, il mondo interno, di crescita interna, ma era qualcosa che in realtà mi mancava. Questo 2020 a casa mi ha portato non solo a continuare la mia crescita personale in modo costante e amplificato, ma mi ha anche portato a conoscermi internamente. Una parte di me che io non avevo neanche idee esistesse e che non avevo mai preso in considerazione e che adesso ho scoperto che è una delle parti più importanti. Ho iniziato anche a leggere libri, a meditare, a fare yoga, a fare tutto un percorso di ingegneria interna grazie a Sadhguru, ve lo link in descrizione e comunque ci sono anche i video che ho fatto vloggando questa cosa. Infatti la maggior parte dei miei vlog sono in inglese ed è per questo che sto facendo il video in italiano perché alcune persone mi hanno chiesto Marco per favore spiegaci anche a noi in italiano che cosa sta succedendo. Negli ultimi settimane hai fatto tutti i vlog del lunedì parlando di alimentazione. Perché? Cosa sta succedendo? E allora ve lo volevo anche far capire in italiano. Diciamo che questo percorso mi ha aiutato ad avere una consapevolezza interna e anche del mio corpo e della mia mente molto più profonda di quella che avevo prima. E dunque capire come funziona bene il mio corpo, capire come funziona bene la mia mente, capire come funziono al 100% per arrivare ad un potenziale massimo, la crescita personale è sempre qualcosa che mi ha affascinato, ho capito che non posso continuare così dal punto di vista dell'alimentazione. Sì, io ho lavorato su tantissimi gradini nella mia crescita personale, dalla finanza personale, dalla lettura, dalla meditazione, dal nuoto, dallo sport, beauty care, network, viaggi, qualsiasi cosa ho fatto, ma all'inizio della scala della sopravvivenza di che cosa è fatto un uomo c'è il proprio corpo, la propria alimentazione. Dunque il corpo è quello che si mangia. Il proprio corpo è semplicemente l'accumulazione del cibo che si mangia. E dunque se non sto attento e non capisco come arrivare ad avere una piattaforma che sostiene tutto il resto del mio potenziale, tutto il resto è comunque vacillante. Quindi sì, io ho lavorato tantissimo su me stesso, ma nel momento in cui io adesso vado a coprire le fondamenta, ovvero il mio corpo, ovvero il cibo che mangio, tutto il resto del potenziale diventa solido e una piattaforma stabile per raggiungere il mio potenziale massimo. Dunque ho capito che è il momento a 24 anni di iniziare a mangiare verdura. Ho fatto anche un sacco di studi, ho capito che alla fine la dieta vegetariana è un po' quella che funzionerebbe meglio per me o per le persone che sono comunque in cerca del loro potenziale massimo. Ho scoperto che tantissimi atleti e tantissimi lottatori di arti marziali hanno scelto la dieta vegetariana, alcuni per etica ma altri per potenziale. Anche nello yoga si dice che tutto ciò che è vegetariano, crudo, vivo, colorato, positivo, eccetera, è qualcosa che per il tuo corpo è positivo. Passa velocemente per il tuo corpo, che in realtà è fatto molto meglio per digerire in fretta e velocemente frutta e verdura e cibi vivi piuttosto che carne e cibi morti. Dunque la carne la scarterò? No, non la scarterò, ma la mangerò sicuramente molto meno di prima. Una, due volte a settimana o anche una volta ogni due settimane, preferibilmente carne bianca o pesce. Non escluderò le uova e adesso vi farò vedere che cos'è la mia nuova dieta. Cosa ho deciso di fare dunque? Ho deciso di, ok, voglio diventare vegetariano, io vegetariano, lo so, però se voglio raggiungere il mio potenziale massimo, io se mi metto un obiettivo lo raggiungo. È una delle limitazioni più grosse che ho avuto nella mia vita, che ho nella mia vita, e dunque ho deciso di romperlo quest'anno, di sfruttare al massimo tutto il tempo che ho, partendo già da adesso e rompendo questa barriera. Cosa ho fatto? Mi serve un esperto. Ho dovuto assumere un esperto, sono dovuto andare da un nutrizionista. Anche se avessi fatto con mia madre, a casa mia, dei piatti di verdura da assaggiare ogni giorno, non ce l'avrei fatta. Mi serviva la motivazione, anche se io sono molto motivato, avrei comunque trovato per questa barriera qui, che per me è molto profonda, sempre una scusa da dire, no, oggi non ne ho voglia, no, dai, oggi mangio questo, oggi non ho voglia di quello, eccetera. Invece avendo pagato per un nutrizionista che mi ha dato una scheda alimentare, anche di una dieta vegetariana e più naturale, che io non conosco, io non riesco ad abbinare le verdure correttamente, non riesco a scegliere quali verdure sono più facili per me, quali contengono più proteine, quali più fibre, quali più carboidrati, quali più vitamine, eccetera. Dunque mi serviva qualcuno di più esperto. Sono andato da una naturopata, che lavora anche come nutrizionista. Non da una nutrizionista perché il mio obiettivo in realtà non era perdere peso, prendere peso o con i grammi scrivermi e mangiare esattamente quello che mi dice, ma avere una linea guida e un percorso per iniziare a mangiare le verdure. Dunque per farvela molto in breve, ho iniziato questo percorso, in una settimana ho assaggiato tre verdure. È stata difficilissima, però alla fine ce l'ho fatta, vi lascio comunque le mie reazioni. Dopo un'altra settimana ho riassaggiato, ho provato anche nuove verdure e pian piano mi sono sentito sempre meglio. Poi è passato un mese e ho iniziato e ho continuato a assaggiare sempre più verdure. Ho tolto questa limitazione che avevo nella mia testa. Voi mi direte, come ho fatto? Per le prime verdure è stato difficilissimo. Vedevo proprio, immaginate come per voi mangiare un insetto. Non lo vedete come cibo. Magari da fuori vi dicono, ma va, fa benissimo, mangialo, fidati, non ti succede niente. Voi lo mangiate, però è comunque una sfida per voi. Vi si alza il battito cardiaco, non riuscite a vederlo come qualcosa di buono, lo mangiate e magari va anche giù, però poi non lo vorreste più toccare. Ecco, per me tutto il cibo di verdura è così. Quindi abbiamo scelto accuratamente all'inizio i cibi che secondo me potevano essere meno fastidiosi. Quindi quelli meno verdi e anche abbiamo comunque introdotto lo stesso delle zuppe, eccetera, eccetera. Pian piano poi, dopo un mese, sono tornato dalla nutrizionista e abbiamo tolto zuppe, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto nuovi piatti e adesso diciamo che ho delle buone linee guida su come mangiare una dieta che continuerò ad aggiungere sempre di più, in cui continuerò ad aggiungere sempre di più piatti naturali, piatti organici, piatti vivi. Come ho fatto? È stata difficile per i primi, poi ho adottato un sistema, grazie anche tanto allo yoga e alla meditazione che ho fatto, che mi ha aiutato a staccarmi un po' dalla mia mente in questo caso, ma è stata la consapevolezza che tutto ciò che mangio arriva da questo pianeta, da questa terra, e dunque, anche se sembra una cosa sciocca, arrivando da questa terra è qualcosa che mi fa bene, qualcosa che è nato per essere, per nutrirmi. Non perché è buono, qualcosa che è nato per nutrirmi, per rendermi al massimo del mio potenziale. Quindi è un'offerta, devo essere grato perché è un regalo, è un'offerta che mi viene data da mangiare. Dunque ho iniziato a vedere il cibo non più dal punto di vista di buono, cattivo, ma dal punto di vista di è qualcosa che mi fa bene, è qualcosa che mangio perché mi è stato donato. Devo essere grato per questa possibilità che ho, su questo pianeta crescono queste cose bellissime e io posso mangiarle. E poi invece pian piano il gusto arriva, anche la nutrizionista mi ha detto che essendo un percorso, lei era contentissima del mio risultato, che comunque fin da subito la mia disciplina ha dato effetti, il gusto sarebbe arrivato con la costanza. Quindi dopo un po', dopo un po' che ci si abitua al gusto, dopo un po' che ci si abitua alla consistenza, eccetera, pian piano poi ci si abitua anche a cosa mi piace e cosa non mi piace, ma intanto già mangiarlo è qualcosa di veramente incredibile. Avevo verdure a tutti i pasti e adesso ce l'ho a tutti i pasti. È qualcosa che non mi pesa più, è qualcosa che sto continuando a provare, anzi è stata un'emozione per me poter sbloccare questa cosa perché ho avuto anche delle piccole crisi nel mentre assaggiavo e ho avuto anche i momenti in cui mi sono reso conto che la mia vita sarebbe cambiata completamente perché potevo finalmente andare al ristorante adesso e non più assaggiare piccole cose ma di tutto. Andare al ristorante cinese e mangiarmi gli spaghetti di riso con i gamberi dove dentro ci sono anche le verdure e non dover spostare tutte le verdure. Sembrano cavolate, invece per me è un passo gigantesco e sono sicuro che porterà il mio potenziale a livelli incredibili. Dunque adesso sta andando bene, continuo ad aggiungere verdure sempre più crude, voglio aggiungere sempre più verdure crude perché nello yoga è considerata una cosa viva e che ti aiuta tantissimo. Sempre di più, ho molta più energia, la mia pelle pian piano si sta asciugando da tutti i brufoli, i cicatrici, i miei capelli, tutto sta migliorando, gli occhi, sta migliorando veramente tutto. Anche il dormire, dormo sempre meno, però mi sento sempre più attivo e sono molto contento e non vedo l'ora di continuare così. Vi aggiornerò probabilmente in futuro con tutto il mio percorso, come sta andando, come procede. Nel frattempo cerco di assaggiare sempre più verdure, cerco di essere più consapevole della mia alimentazione, che cosa metto nel mio corpo e farò anche dei vlog sempre in inglese o magari vi aggiornerò anche in italiano su tutte le verdure nuove che mangio e anche la mia reaction mentre le mangio, mentre le assaggio e che cosa ne penso. Adesso ho delle mie verdure preferite, altre mi piacciono un po' meno, altre le ho scartate perché proprio non riesco a... non mi piacciono, non che non riesco a mangiarle perché gli ho dato dei tentativi, ma non mi piacciono. Quindi quello ci sta, può anche andare. Anche il resto del cibo ho iniziato a mangiarle in modo più organico, cibo più salutare, cibo più bio, cibo senza lattosio e meno pesante anche per il mio reflusso perché avevo anche il reflusso e sto cercando adesso di combatterlo. Infatti mi ha dato degli integratori, lei, che però poi pian piano ho smesso di prendere. Avevo anche un drenante, proprio una dieta detox per almeno un mese da tutte le proteine che ho mangiato in passato perché mangiavo tantissime proteine, ragazzi. E quindi ho avuto un detox per un mese. E adesso invece va molto meglio. Cercherò di andare sempre meglio. Io sto anche imparando ad esempio anche da questo libro qua di yoga, proprio di Sadguru, Taste of Wellbeing, ve lo lascio in descrizione. Ci sono un sacco di ricette e ti insegna proprio a partire dall'acqua che si beve a tutto come dovrebbe essere per chi ti dia il massimo del potenziale per la tua energia, per la tua spiritualità, per l'agilità, ma anche per la forza. Quindi ecco qua, ragazzi. Se avete qualsiasi domanda, lasciate in descrizione. Ad esempio, le proteine sono sufficienti, non sono sufficienti? S, sono sufficienti, però dipende da quello che volete fare nella vostra vita. Se volete essere giganteschi, ovviamente dovete aggiungere delle proteine, ma in realtà, se imparate a mangiare le verdure in modo corretto, e anche tutti i tipi di cibi vegetariani, le proteine non vi mancheranno assolutamente, anzi, anche perché alla fine non ne servono così tante al corpo, come si pensa. E dunque anche avere un'alimentazione più consapevole e mangiare cibi più di qualità, in generale, veramente porta tanto. E anche come si mangiano. Quindi ecco qua, ragazzi. Non voglio rendere il video troppo lungo. Oh mio Dio, è già lunghissimo. Spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi nei commenti quello che pensate e non ci rivediamo al prossimo video. Ah, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Diamine. Ciao ragazzi.